Stanno arrivando bollette da far tremare i polsi per gli alberghi da 25 mila euro. Voi direte, vabbè, li avranno pagati sempre. Ma non è così, vero Grimi? Ma non è esattamente così. I costi dell'energia elettrica sono raddoppiati, in alcuni casi triplicati, per cui si è passati da bollette da 8, 10, 11 mila euro per un albergo con 40-50 stanze a bollette da 25-30 mila euro. Voi mi capite che questa situazione non è per niente sopportabile perché non c'è solo l'energia elettrica, c'è l'acqua che è decisamente aumentata, il gas che è inutile commentarlo, le famiglie ben sanno quanto è aumentato il gas, e il costo delle materie prime per la ristorazione, cioè l'olio, tutto il cibo in genere, il costo dei carburanti. Questo problema stresserà fortissimamente i costi delle aziende, i bilanci aziendali, per cui purtroppo ci stiamo trovando con delle aziende che hanno lavorato tantissimo, hanno speso tantissimo in personale per far fronte all'emergenza Covid, e probabilmente chiuderanno dei bilanci se tutto va bene in pareggio, poco utile in alcuni casi, in perdita. Abbiamo di fronte un autunno difficile per il comparto del turismo, che ha dato lustro al Terramano in modo particolare e all'Abruzzo, ma lo ha fatto a prezzo del sangue, credetemi. Questo Grimi significa che i prezzi per i turisti aumenteranno questa stagione ormai andata, però dall'anno prossimo se non cambierà qualcosa aumenteranno? Allora, io mi auguro di no, nel senso che consideriamo questa come una situazione contingente dovuta alla guerra e ci aspettiamo un riequilibrio, auspichiamo un riequilibrio dei costi dell'energia. Se così non dovesse essere affrontare la prossima stagione con prezzi che a questo punto dovrebbero aumentare del 50%, potrebbe essere particolarmente difficile. Speriamo veramente che la situazione abbia un riequilibrio. Nel frattempo sappiamo che queste aziende vanno aiutate, ma nel modo più concreto possibile.